Benvenuti e benvenuti a questo quinto ciclo di Extrema Razio. Io sono Guido Mazzoni. Come di consueto, prima di iniziare, ringrazio il Centro di Calcolo e l'area Biblioteche dell'Università di Siena, ma anche Angelica Losauro, Giulia Laversa e Lara Marrama, che assicurano il collegamento internet e fanno conoscere questa iniziativa sui social network. La quinta serie di Extrema Razio è visibile su Webex e su YouTube. Chi si collega da Webex è invitato a tenere spenta la telecamera. Un anno fa, il 27 marzo del 2020, moriva Mario Benedetti, uno dei maggiori poeti italiani dei nostri tempi, autore di quattro libri fondamentali come Umana Gloria, Pittore nere su carta, Materiali di un'identità e Terza Morte. Di Mario Benedetti si è parlato molto in questo ultimo anno e noi volevamo farlo in modo nuovo. Abbiamo così chiesto a Maria Borio, Francesco Brancati, Simo Burratti, Rocco Comaso di Dio e Riccardo Socci di parlare di Mario Benedetti e abbiamo chiesto loro di farlo a partire da un testo, da una esplicazione del test. Prima di lasciare la parola a Stefano Dalbianco che coordinerà gli interventi e darà la parola. Volevo ringraziare Dino Ignani che è l'autore della foto che abbiamo messo sulla locandina di questo incontro, una foto molto bella che rappresenta Mario in modo icastico e davvero somigliante a ciò che Mario era. Lascio la parola a Stefano Dalbianco. Eccomi, buonasera a tutti. Abbiamo una scaletta molto densa e quindi io farò le presentazioni e sarò però brevissimo per non rubare tempo. Dico solo che sono molto contento di questa cosa che siamo riusciti a organizzare. Questi sei invitati che parleranno, lo dico così facciamo prima, sono tutti e sei anche e forse soprattutto poeti, quindi io non vi dirò nulla delle loro poesie, andatevele a cercare, vi dirò pochissime informazioni su ciascuno. Vi ricordo che alla fine degli interventi apriremo la chat e quindi sarà possibile se qualcuno vuol fare qualche intervento potrà farlo alla fine. L'ordine degli interventi abbiamo pensato di farlo in qualche misura cronologico, ci abbiamo seguito, ognuno parlerà a partire da un testo di Mario e abbiamo pensato che un ordine plausibile era quello appunto cronologico nel senso dell'ordine di comparizione delle poesie di Mario a partire dalla prima raccolta ufficiale che è diciamo ufficiale tra virgolette che è quella di Mondadori del 2004, Umana Gloria. Ci saranno quattro interventi su Umana Gloria, un intervento a partire da questo libro strano e particolare che è Materiali di un'identità del 2010 e l'ultimo intervento di Maria Borio che invece parlerà di un testo dell'ultimo libro pubblicato di Mario che è terza morte del 2013. Penso di aver detto tutto l'essenziale e chiamo a comparire da qualche parte Francesco Brancati che è attualmente assegnista di ricerca all'Università di Pisa e si occupa di letteratura italiana soprattutto di 4-500, Ariosto, Berni, Boiardo ma anche di seconda metà del novecento all'attivo degli studi su Amelia Rosselli, su Benedetti stesso, su Roberto Bolagno e su Giovanni Orelli. Sta lavorando a una cosa che mi interessa molto che prima o poi mi farà vedere che è sulla presenza della commedia di Dante nel Furioso. Basta gli do la parola, chiedo scusa a tutti non dico nulla dei vostri libri di poesia, ecco questo perché tanto mi trovano. Ecco parlerà Francesco di una poesia appunto da umana gloria che si intitola La Casa della Giave e gli passo senz'altro la parola. Grazie, grazie mille Stefano per la presentazione e buonasera a tutti. Inizio e condivido. La Casa della Giave. Sono finiti gli anni della casa, anche quelli che si pensava fossero ancora lì, con gli abeti, la bicicletta che tenevano su. Ci sono un ragazzo e una donna, nei movimenti che si rompono, senza dolore, lungo quello che è il loro cortile. C'è dell'erba di là, come non saprei dire, sotto gli alberi che fa un po' di prato. Come le viti sono i legni secchi dei rovi, qualche foglia strana dei rovi. Sono un fiore che cresce più di quello che possa, di quello che è a toccarlo. Come quando si dice, mi hai portato dei fiori, e sono solo dei poveri fiori. Come quando si dice, così sono stati i poeti. La Casa della Giave è tratta dalla seconda sezione di Humana Gloria, un fiore che cresce più di quello che possa. La sezione comprende altri sette testi, di cui sei, compresa la Casa della Giave, provengono dalla Plaquette, una terra che non sembra vera del 1997. Uno, città e campagna, del Parco del Triglav del 99, e un altro, con il sole nel muro grande di casa, non pubblicato in precedenza in nessun'altra silloge. Quanto siamo stati con le foglie, la Casa della Giave, ed è stato un grande sogno vivere, costituiscono un gruppo di testi piuttosto compatto, il cui ordinamento resiste al processo di assemblaggio di componimenti dalle raccolte precedenti, il quale configura un complesso macrotesto, di cui Humana Gloria rappresenta il significativo approdo finale. Osservando la struttura della raccolta, è possibile fare come questa disposizione dei testi, si dimostri particolarmente attenta alla cronologia dell'Io e agli spazi geografici che questi attraversa, suggerendo a tratti la presenza di un'architettura che ricalca quella di un romanzo di formazione del soggetto lirico. È possibile rintracciare la preistoria di tale disegno, con le sue diverse articolazioni tra spazi urbani e spazi rurali, di che di Mario Benedetti, come per esempio nelle prose della casa. In Humana Gloria, le prime due sezioni, in fondo al tempo, è un fiore che cresce più di quello che possa, contengono poesie ambientate nei luoghi dell'infanzia e dell'edolescenza. Qui il tempo viene sottoposto a un processo di indeterminazione leggiaca, con lo scopo di restituire la sensazione fluttuante degli spazi rivissuti attraverso il ricordo. Per quanto concerne un fiore che cresce più di quello che possa, la casa e la java assumono un'importanza strutturale, dal momento che la poesia si trova nel centro esatto della sezione, che prende il titolo da uno dei suoi versi. Nei primi tre versi della lirica, Lio ricorda un periodo trascorso, costatandone la fine. Il ricordo è sufficiente all'innesto della visione nel presente, attraverso l'inserimento di una narrazione che determina quasi un'indistinzione cronologica. Il lettore può desumere che l'attualizzazione del ricordo sia realizzata facendo ricorso a una sorta di flashback, che consente lo slittamento tra diversi piani temporali. Tuttavia, nessun elemento formale, tranne forse la presenza di un ragazzo e una donna, un figlio e una madre, contribuisce a chiarire in maniera univoca se le immagini della seconda e della terza strofa siano effettivamente un ricordo del passato, o se viceversa, lo scenario emerso attraverso singoli dettagli, il cortile, l'erba sotto gli alberi che fa un po' di prato, non rappresenti invece il luogo in cui Lio attualmente si trova, uno spazio intermedio tra il ricordo e la sua rielaborazione, che è lo spazio proprio della lirica di Benedetti. Al verso 2, infatti, Lio ricorda di aver pensato che il tempo della casa potesse essere ancora lì, come cristallizzato in un'immagina temporale, come quella degli alberi che tenevano su e della bicicletta. L'indistinzione visiva del ricordo, tuttavia, non attenua la forza materica dei referenti, lo sforzo che la parola compie per sottrarle alla dimenticanza e quindi alla perdita. Il progressivo processo di definizione e di recupero di un'esperienza trasmissibile all'esterno mi sembra costituisca uno dei tratti maggiori della lirica di Benedetti. Per rimanere sul testo della casa della Giave, possiamo osservare come il suo lessico, il suo lessico immagine, riconosce le sue linee essenziali in una serie di testi precedenti, come nelle due versioni di questa poesia, da moriremo guardati e dal cielo per sempre. Ma quando ritorni, avevo la gente per mano, la strada dei temi della prima media la tenevo nei passi, il cortile grande dove i rastrelli giocavano a dirsi parole, è così notte, così freddo e questi lumi di veglia nell'attesa. Ho le unghie come foglie di grano turco e i capelli mi spiovano sugli occhi. Quando ritorneremo? Avevo i giorni chiari. L'estate era contenta di avermi. Alto bosco, torrente di pini, che si raccontava per farmi dormire. Tra le felci sono stato, fino a Montessi. Già qui, nei movimenti tra parentesi che costituiscono il non dicibile, rispetto alle uniche due domande che il soggetto riesce a comunicare all'esterno. Ma quando ritorni? Quando ritorneremo? Incontriamo il lessico immagine della casa della giave, il cortile, le felci, le foglie di grano turco e l'altro bosco, il luogo degli alberi con l'erba che fa un po' di prato, la bicicletta. Soltanto ciò che prima era la descrizione di un'azione compiuta dal soggetto, tra le felci sono stato, fino a Monteprato in bici, di legua nella casa della giave, fino a diventare una sola immagine, quella della bicicletta, posta al centro del verso due. Nessun'altra azione viene compiuta, come invece accadeva qui, alla fine di Ma quando ritorni, dove l'impiego del passato prossimo, sono stato in bici, contribuisce alla concretezza dell'immagine. I movimenti si rompono, senza dolore, nel cortile, poiché il momento del distacco e della perdita è avvenuto prima, e non viene descritto, anche se i suoi effetti sono presenti fin dall'inizio del componimento. I luoghi del resto non trattengono. Gli elementi naturali nella poesia di Benedetti sono spesso raffigurati secondo una proiezione verticale della loro immagine, in grado di restituire la vertigine provata dal soggetto che li osserva dal basso. Nella casa della giave gli abeti tenevano su. L'ultima sezione dei secoli della primavera si intitola Saliremo con gli alberi, e contiene una sola poesia, la quale chiude il libro, i cui primi versi dicono, porteremo i corpi nel cielo, saliremo con gli alberi, le cattedrali di vetro e di roccia. Ma questa tensione di realtà è frenata da un limite, rappresentato dalla radice. L'io, come il fiore, cresce più di quanto è possibile, e i poeti, la poesia, rappresentano l'escrescenza della biografia. La similitudine arborea dei versi 9 e 10, come le viti sono i legni secchi dei rovi, qualche foglia strana dei rovi, annuncia e prepara l'immissione dell'equazione botanica tra il soggetto e la pianta del primo verso dell'ultima strofa, quasi a voler ribadire il legame tra individuo e natura, uniti in una comune condizione di crescita e di fragilità. L'immagine viene amplificata da una successiva similitudine, ai versi 13 e 14, a sua volta generatrice della similitudine finale. Tuttavia, a differenza della redazione di questa poesia pubblicata in una terra che non sembra vera, la figura retorica presenta qui una relazione sbalzata tra il primo e il secondo connettivo, in grado di stabilire l'equivalenza tra due oggetti o due successioni di pensiero, come così, poiché l'avverbio così, al verso 15, fa parte del piano del discorso diretto e riportato, tra virgolette, diverso da un punto di vista logico e grammaticale dal piano dell'elocuzio del periodo. Il connettivo è però l'elemento sintattico che consente di assegnare alla strofa un significato semantico coerente. I poeti sono stati dei fiori che crescono più di quello che possono, sono dei poveri doni. E questo mi sembra un modo tipico di far procedere il discorso nei testi di Umana Gloria. Il ricorso a meccanismi di tipo analogico e comparativo consente lo spostamento tra tempi, spazi e campi di significato anche distanti tra loro. Il risultato è espressionistico ma calibrato. Tanto la similitudine quanto la nominazione consentono una rappresentazione segmentata della realtà, in linea con l'orizzonte parziale dell'esperienza vissuto dall'individuo e con le perdite della biografia, che nella poesia di Mario riescono a trasfigurare con delicata potenza l'orizzonte privato e a diventare le perdite di tutti. Il segreto di ognuno per vivere, forse, come diceva Benedetti in una poesia di terza morte, che mi sembra ancora prossima al senso di stupore, ecco la meraviglia, della casa della Giave, con i cui versi mi piacerebbe concludere questa lettura. Vado nell'aprile del 2010, quando la casa era nostra, e l'asfalto, i fili della luce, le montagne, il sole. Nessuno ci vedeva e noi vedevamo tutto, è il segreto di ognuno per vivere. Cade quella primavera sulle suole di neve, con il peso di tutti i miei anni. Un bianco pestato in un amaro sale grigio, la sola immagine, il mio corpo di adesso. Grazie Francesco, io passo subito, grazie anche perché sei stato rigorosamente nei tempi, così ce la facciamo forse a fare un minimo di discussione alla fine. Io chiamo a comparire Claudia Crocco adesso, che parlerà di un'altra poesia di umana gloria, ciao Claudia, che comincia con il sole nel muro grande di casa. Claudia Crocco esce da Siena, si è laureata qui e ha fatto un dottorato a Trento, dove adesso vive ed è docente a contratto. Ha scritto un libro piuttosto fortunato di critica, che è la poesia italiana del Novecento, il canone e le interpretazioni. Ne ha un altro in programma, che credo stia a buon punto, non lo so, che è sulla poesia in prosa in Italia, fino ad oggi. È molto attiva e fa parte del comitato direttivo di una rivista che è nata da pochi anni, che però è già scatenata, che si chiama T con tre, è una rivista di teoria, testo e traduzione. Quindi, Claudia Crocco, vai! Ecco, allora, inizio ringraziando Stefano Dalbianco, Guido Mazzoni, Emanuela Carbet per l'insostituibile assistenza tecnica e tutti gli organizzatori del ciclo di Extramarazio per l'invito. Mi fa molto piacere essere qui e vi leggerò un altro testo dalla stessa sezione, tratto dalla stessa sezione di Umana Gloria, dalla quale è tratto quello letto da Francesco. La sezione è un fiore che cresce più di quello che possa. Questo appunto è il testo, è una poesia che non ha titolo, con il sole nel muro grande di casa. Che è l'incipitativo. Con il sole nel muro grande di casa e il cortile che un poco brilla sulle ponte di erba è mattino. E io vorrei le parole per dire gli occhi, fermati sulla colazione, dire che il pane è più una cosa che mi nutre di altri giorni di allegria. Come allora, il tavolo è i bicchieri che porta, le bottiglie e i bicchieri. Come non siamo capaci di non pensare, di non immaginare, e solo in questo i fiori nel cortile, o la ghiaia per esempio, le pietre della casa, sono andate nelle canzoni. Sono andate le vecchie strade a mostrare il loro ciglio di erba incontro alle nuvole, o nella trasparenza di certe giornate, fino ai tramonti animati dalla polvere più bella, più dipinta. Le ortenzie sono l'ombra che fiorisce, la sera è lungo il muro dipinta. Saremo una sera chiara, quasi di primavera, sopra i vasi di menta, le conche di terra e foglie in più di un bosco. Allora, commenterò questa poesia e tuttavia non procederò in modo capillare, quindi mi soffermerò più su alcuni versi e meno su altri e vorrei anche precisare che non ho pretesa di esaustività, non parlerò di tutti gli aspetti importanti dell'opera di Benedetti, ma cercherò di evidenziarne alcune caratteristiche. Come dicevo, non c'è titolo, siamo nella seconda sezione di Umana Gloria e l'incipit, direi i primi due versi, ci introducono in una tipica situazione della poesia di Benedetti, di Umana Gloria e più in particolare di questa sezione. Cioè, se volete, è un momento, una situazione lirico-descrittiva. C'è un ambiente naturale, che probabilmente è il Friuli, e infatti, accennava Francesco, le prime due sezioni di Umana Gloria sono quasi tutti ambientate nella giovinezza friulana di Benedetti. In realtà, però, è difficile, forse anche inutile, dire quale sia il tempo di questa poesia. Ho scelto questo testo anche perché mostra il trattamento della dimensione temporale di Benedetti, in particolar modo in Umana Gloria. Si sovrappongono diversi momenti, anche a questo accennava già Francesco. Non c'è un solo ricordo e all'inizio, in questo caso, il primo verbo in assoluto è solo alla fine del secondo verso e regge entrambi i versi ed è il presente, è mattino. Poco più avanti, però, si legge, invece, come allora. Quindi, si rimanda a un momento precedente. Spesso in Umana Gloria, quando si rimanda a un momento precedente, c'è l'imperfetto. In questo caso, invece, rimane il presente. Alla fine, addirittura, c'è il futuro. Un futuro che, in realtà, è abbastanza svuotato del senso semantico normale, se vogliamo, effettivo. Cioè, questo saremo, che tra l'altro è tipico delle chiuse di molte poesie di Umana Gloria, futuro e prima persona plurale. Ma torniamo al tempo, torniamo ai primi due versi. È quello che altrove, in un'altra poesia, Benedetti definisce un tempo senza tempo, cioè è un momento di sovrapposizione di piani temporali diversi. Ma attenzione, perché quando si parla di ricordo, evidentemente, in questo caso c'è un presente al quale si sovrappone un ricordo. Dicevo, quando si tratta di ricordo per Benedetti, bisogna tenere presente che, in realtà, Benedetti vive la funzione del ricordo in maniera un po' contraddittoria. Tutta Umana Gloria, tutto Terza Morte, in particolar modo, sono libri fatti di ricordi. Eppure, nonostante questo, la poesia di Benedetti, in fondo, si ricorda sempre che la letteratura non è in grado di opporsi al tempo, all'eperimento del tempo, e che quella del ricordo attraverso le parole, in fondo, è solo un'illusione. Ma andiamo avanti, ci arriviamo appunto. Ci arriviamo a partire dall'idea di letteratura che ha Benedetti e ho scelto questo testo proprio per, anche per quello che si può dire sull'idea di letteratura di Benedetti, a partire dall'ecastico terzo verso, che è il più bello. Secondo me. E io vorrei le parole per dire gli occhi, che continuiamo nel quarto, fermati sulla colazione. Allora, perché le parole per dire gli occhi? Qui c'è tutta l'idea della letteratura e della conoscenza, secondo me, per Benedetti. La poesia e la letteratura non è un modo di rispecchiare la realtà, di rappresentarla così com'è. Piuttosto serve a dare una rappresentazione a quella che potremmo definire la realtà soggettiva e la realtà pensata. Cioè, non le cose come sono di per sé, ma come vengono percepite dagli occhi, appunto. Gli occhi e lo sguardo e tutte le parole che hanno a che fare con questo campo semantico sono presenti, sono disseminate in tutta l'opera di Benedetti, da moriremo guardati fino a una terza morte. E sono un tratto di stile di umana gloria. E questo si lega all'idea che Benedetti ha del linguaggio, che è un fondo uno schermo rispetto alla realtà. Il discorso qui si porterebbe lontano, si porterebbe innanzitutto a Michael Steger e alla tesi di laurea su Michael Steger, alla mia avanguardia, ma anche andando più lontano e leggendo la tesi di laurea a Schopenhauer, ad Aristotele e a teorie appunto della conoscenza. Ed è l'aspetto che più mi interessa, onestamente, perché è quello che più sto studiando adesso dopo il ritrovamento della tesi di laurea, la quale accennavo. Quello che non importa adesso, quello che va tenuto a mente, è che l'idea che il linguaggio sia uno schermo rispetto alla realtà è molto importante per Benedetti, così come è molto importante la conseguente impossibilità della letteratura sia di rispecchiare le cose così come sono, sia di avere un valore epistemologico effettivo e non frammentario. Questa sfiducia quindi nelle possibilità conoscitive epistemologiche della poesia si aumenta, la sfiducia appunto, progressivamente fino a Terza Morte nelle opere di Benedetti e culmina in Terza Morte. Ma già in Umana Gloria ci sono molte espressioni che ricorda, che rimandano a questo concetto. Ad esempio ci sono molte espressioni di scetticismo, di incertezza rispetto a quello che il poeta dice, mi pare, forse vorrei dire e così via. Altre come quelle che abbiamo appena visto, le parole per dire gli occhi o il giorno ripetuto nel pensiero, il vento negli occhi chiusi per pensarlo. È come se non fosse mai rappresentata la realtà direttamente, ma solo una sua rimodulazione interna, solo la sua percezione. Ora, ci tengo a prestare che non sto tirando in ballo un'idea platonica della conoscenza quando parlo di schermo, di rimodulazione, più che altro modo di rimarcare la soggettività e la finitezza della prospettiva per Benedetti. Perché se il linguaggio è uno schermo, la poesia può solo rispecchiare ed esprimere una percezione soggettiva e frammentare della realtà, nella quale l'io stesso non è che un frammento, la cui voce a volte si disperde in quella degli altri, dei morti, spesso ai quali cerca di dare voce, come accade soprattutto poi in Terza Morte, ma già in parte in Umana Gloria, altre volte esibisce la propria mediatezza, esponendo i propri mezzi, riflettendo su se stessa, che poi, se ci pensiamo, è quello che nel Novecento molta colletteratura fa, in reazione spesso alla riflessione sulla mediatezza del linguaggio. Da questo punto di vista direi che il punto estremo di questo atteggiamento di Benedetti è il materiale di un'identità, ma ci sono segnali di episodi di questo tipo anche in Umana Gloria, in questa poesia che sto commentando, così come in un altro testo famosissimo che è che cos'è la solitudine, quando Benedetti dice l'ho letto su un giornale, scusatemi tutti. Da contorno a questo atteggiamento, da sfondo più che da contorno, c'è sempre la percezione, la dimensione di limite, di contatto con la morte. Come dicevo, in fondo Benedetti non perdona la poesia e non lo ha perdonato davvero, era davvero tormentato da questo punto di vista, il fatto di non avere nessun potere salvifico nei confronti della morte, del deperimento del tempo. Ma andiamo avanti perché non vorrei scurare neanch'io nei tempi. Tenendo a mente questa considerazione, passiamo ai versi successivi. Vorrei commentare in particolar modo il sesto e il settimo. Come allora il tavolo e i bicchieri che porta, come non siamo capaci di non pensare, di non immaginare. Qui, quello che ho trovato interessante è che questo come, introduce a quella che vorrei definire, se mi consentite la licenza, una falsa anafora. Cioè, è evidentemente un'anafora, una ripetizione. Le figure di ripetizione, tutte le figure di ripetizione, epifore, anadiplosi e così via, anafore pure, eccetera, sono molto frequenti e molto importanti in Benedetti. In questo testo ci sono svariate altre ripetizioni che collegano in particolar modo la fine di un verso con l'inizio della strofa successiva, andando più avanti. Ma qui quello che mi interessa è il come. Perché? Perché questo come è una, dicevo, una falsa metafora, nel senso che si presenta come un'anafora a tutti gli effetti, mentre in realtà cambia il valore sintattico e semantico della parola e questo produce una forma di straniamento che a sua volta è importante. Nel sesto verso, come allora, il come ha chiaramente un valore di avverbio temporale. Introduce un paragone fra piani temporali diversi, ne abbiamo accennato, ne ha parlato Francesco, non mi ripeterò, c'è un presente indefinito e un passato, come allora, che rimane altrettanto indefinito. C'è poi in questo verso un'altra analogia, c'è questo schema tipico X e Y, il tipico dell'analogia, che Benedetti riprende da De Angelis, in questo caso il tavolo ai bicchieri che porta, ma sempre in questa poesia, più avanti, le urtenzie sono l'ombra che fiorisce al tredicesimo verso. Ecco, Benedetti lo fa spessissimo. È un uso dell'analogia che dicevo, Benedetti riprende da De Angelis e non lo dico a caso perché in qualche modo Benedetti difende quest'uso dell'analogia in un articolo pubblicato sul numero zero di Scarto Minimo, nel quale commenta De Angelis e parla della non concordanza di persone e tempi nelle frasi come di un segnale dell'alterazione della norma linguistica entro la quale l'uomo comunica e vive. Ho letto quest'ultima frase da Scarto Minimo. Insomma, è un altro modo di manifestare quello che vi ho detto prima, cioè di far presente al lettore che da parte del poeta c'è sempre una perplessità rispetto a una presunta oggettività del referente e rispetto a presunte velleità della letteratura, in un certo senso. Questo schema, vi dicevo, è presente anche più avanti e potrebbero essere fatti in realtà molti più esempi ed è, diciamo così, è un altro modo di manifestare quello stupore, e anche questo termine non l'uso a caso, è il titolo di un altro articolo pubblicato da Benedetti su Scarto Minimo, lo stupore e la lucidità, uno stupore rispetto alle cose, dicevo, che è in qualche modo la postura scelta dal poeta, è l'atteggiamento che Benedetti sente come meno finto, è un modo per non cadere nella retorica, nel senso di Michel Steger. Ed è importante perché, perché vorrei sottolineare, non si tratta in realtà di regressione. L'accentuazione di un atteggiamento di stupore nei confronti della realtà è una strategia scelta da Benedetti in modo preciso, in modo premeditato, se vogliamo, e non ha, dal mio punto di vista, nulla di regressivo. Questo per il sesto verso. Ora, nel settimo verso, invece, il come ha un altro valore, cioè a quello di un avverbio esclamativo. Qui è come se invece Benedetti ci dicesse, ecco, guardate come non siamo capaci di non pensare il mondo, come non siamo capaci di percepirlo senza proiettare qualcosa su di esso. E infatti le cose, il cortile, i fiori, la ghiaia, le cose dei nostri ricordi, sono andate nelle canzoni, nel senso che in realtà le ricordiamo non come sono, non così come sono, ma perché sono finite nelle canzoni, cioè sono entrate a far parte della letteratura. L'esclamazione è un'altra caratteristica che contribuisce a definire la postura di Benedetti. Ci sono molti avverbi e congiunzioni esclamative in Humana Gloria, ma anche ad esempio in Pittura in Mene su carta, Ecco, o in questo caso il come con valore esclamativo. Ed è un altro modo di presentare la meraviglia, lo stupore rispetto alle cose. Così come d'altronde questa falsa anafora e lo straniamento che produce è un modo di rendere ambigua il valore sintattico-semantico della poesia, producendo una forma di straniamento. E questo atteggiamento è una sorta di, possiamo considerarlo, una forma di anticorpi alla presunzione di una oggettività della conoscenza. In questa stessa direzione direi che vanno la sintassi e l'antropizzazione di elementi naturali, che si possono notare nei versi successivi, dal decimo al tredicesimo. In particolar modo direi che i più oscuri, da un punto di vista sintattico, sono quelli che vanno dal decimo al dodicesimo, perché qui un verso sconfina nell'altro ed è come se, da un punto di vista logico, semantico, il confine del verso non significasse nulla. Fateci caso, insomma, se leggiamo a partire da o nella trasparenza, quindi la seconda parte dell'undicesimo verso, fino a più dipinta, questo è come se fosse un verso a sé. Quindi da un lato il decimo e la prima parte dell'undicesimo hanno un senso, e dall'altro l'undicesimo è come diviso in due, quindi la seconda parte dell'undicesimo verso e tutto il dodicesimo verso è come se stessero a parte. E qui accade di nuovo quello che ricorre in molti luoghi di Benedetti, tutta l'opera di Benedetti, fin da Gesù a cui ha dato un valore, una capacità, una intenzionalità, quindi c'è un'antropizzazione di elementi naturali o comunque di elementi che non dovrebbero essere dotati di volontà. Questo è tipico di Benedetti, perché appunto tutta umana gloria e in generale buona parte della sua opera è caratterizzata da una sintassi alogica, ma di questo si è già parlato quindi non mi dilungherò. Quello che vorrei sottolineare dal punto di vista sintattico è che secondo me è più che riprodurre il parlato, la sintassi sghemba con molte dislocazioni di Benedetti, è un altro modo di presentare la frammentarietà e il limite, l'essere limitato del punto di vista del poeta e quindi della poesia tutta sulla realtà. Concludo, vado alla conclusione con qualche considerazione sul lessico, qualcosa ha già detto Francesco, anche qui abbiamo in effetti un bel esempio, un bello specchio di quello che succede in umana gloria. Benedetti in fondo è un poeta del lago, come dice Benedetti, come dice De Angelis riprendendo una metafora fortunata della Svetaeva, cioè un poeta di che ha poche ossessioni, che tutto sommato ha un lessico abbastanza limitato, con poche escursioni e appunto molte ossessioni, dicevo. Da un lato ci sono spesso questi termini che hanno a che fare con oggetti poveri, quotidiani, pane, bicchieri, bottiglie, cortile, ghiaia, colazione, nel caso di questa poesia, sono quelli che fanno parlare, anche se io non sono del tutto d'accordo, di elegia appunto. E poi ci sono parole che descrivono un paesaggio naturale che io ci terrei a definire appunto non idilliaco, ma che senz'altro ha qualcosa di primigenio, di primitivo direi, di tratteggiato nei suoi aspetti essenziali, con una prospettiva non regressiva ma infantile sì, volutamente infantile, infantile però più che leziosa, ingenua più che sentimentale se volete. Ad esempio mattino, erba, sole, nuvole, fiori, strade, tramonti, ombra, sera e così via. E poi c'è ovviamente il nucleo semantico delle parole che hanno a che fare con il lessico della visione e del pensiero. In questo caso ci sono degli infiniti sostantivati, pensare, immaginare, altrove ci sono occhi, pensiero, sguardo, ma non importa. Il punto è che queste parole sono quelle a più alta frequenza nell'opera di Benedetti e in particolar modo in Umana Gloria. E questi traspetti dell'essico sono tipici appunto della sua opera. Ora concludo davvero con la conclusione della poesia che leggo, quindi, faremo una sera chiara, quasi di primavera, sopra i vasi di menta, le conche di terra e foglie in più di un bosco. Quello che mi interessava di questa conclusione in realtà è che appunto c'è questa chiusa così tipica con il plurale alla prima persona plurale e il futuro, che ricorre anche in Padre Calais, Monti del Cantale, il Parco del Patrick Love, AD e altri testi, insomma, è molto tipica di Benedetti. Ancora una volta c'è un'antropizzazione, ovviamente, e ancora una volta c'è una sorta di scambio fra il soggetto che guarda e l'oggetto guardato. Ancora una volta, quindi, c'è un modo di disperdere l'io lirico che è tipico di Benedetti e che, credo, è anche una delle cose che lo rendono più moderno e più interessante oggi, perché è un poeta senz'altro lirico, ma è anche un poeta che ha saputo mostrare una consapevolezza quasi avanguardista appunto dei limiti del linguaggio e che ha saputo trattare la prima persona singolare in un modo appunto assolutamente moderno. Grazie. Claudia, grazie. Hai sforato di brutto ma ne valeva la pena e hai tirato dentro un sacco di cose, spero ci sia modo di parlarne alla fine e anche sull'intervento di Francesco, ma passo subito a chiamare Riccardo Socci, che so che ha una connessione problematica, speriamo che regga bene. Riccardo Socci sta facendo un dottorato di ricerca all'Università di Pisa e si occupa di poesia italiana nel secondo novecento, ha scritto delle cose interessanti su Magrelli, su Cucchi, su Franco Buffoni e anche sulla prosa, sia Roberto Bolagno che addirittura Kafka. Gli passo la parola. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie Stefano Dalbianco e Guido Massoni per l'invito e spero che tutto funzioni, vediamo. Ho scelto oggi di leggere con voi che cos'è la solitudine, una delle poesie più famose di Benedetti che è stata già citata e lo farò cercando di focalizzare l'attenzione sulla prima persona del testo. Ho fatto questa scelta perché è una poesia che ho appunto analizzata e studiato per la mia tesi di dottorato e quindi oggi anteciperò alcuni dei risultati del mio lavoro. Ora condivido la presentazione e inizio subito leggendo la poesia. Spero che si veda. Che cos'è la solitudine? Ho portato con me delle vecchie cose per guardare gli alberi, un inverno, le poche foglie sui rami, una panchina vuota. Ho freddo, ma come se non fossi io. Ho portato un libro. Mi dico di essermi pensato in un libro, come un uomo con un libro, ingenuamente. Pareva un giorno lontano oggi, pensoso. Mi pareva che tutti avessero visto il parco nei quadri, il Natale nei racconti, le stampe su questo parco come un suo spessore. Che cos'è la solitudine? La donna ha disteso la coperta sul pavimento per non sporcare. È distesa prendendo le forbici per colpirsi nel petto. Un martello perché non aveva la forza. Un'oscenità grande. L'ho letto in un foglio di giornale. Scusatemi tutti. Come vedete propongo, per procedere nella lettura, di suddividere la nostra poesia in tre sezioni. Nella prima, che corrisponde ai versi 1-10, il protagonista assoluto è l'io lirico. L'incipit, che cos'è la solitudine, crea un primo blando effetto di stranamento. La forma interrogativa della frase, chiusa però da un punto fermo, fa sì che le strofe seguenti si configurino come una sorta di esplicazione intesa a mostrare che cosa sia appunto la solitudine. Dal concetto astratto, nei versi 2-10, passiamo ad un esempio concreto. L'io si trova solo in un parco d'inverno a guardare gli alberi spogli e, come ci viene detto più avanti, a leggere un libro. L'ordinarietà di questa immagine di vita urbana, quasi uno stereotipo, è annullata dal carattere estragnante del discorso. L'io afferma di aver portato con sé delle vecchie cose per guardare gli alberi e che queste cose, nello specifico, sono proprio l'ambiente che lo contiene, la sciografia, ovvero il parco d'inverno. A differenza di quanto accade nell'incipit di un testo paradigmatico come l'infinito, l'io lirico di Benedetti non ci trasporta a prioristicamente all'interno della propria situazione enunciativa, fingendo che il lettore sia presente sulla scena, ma costruisce il contesto nel quale si trova dopo aver iniziato a parlare. Guardare ci viene descritto come un atto non immediato, che necessita di una localizzazione sicura nello spazio e nel tempo. Se nominare l'oggetto dello sguardo è una cosa ovvia e anzi indissociabile dallo sguardo stesso, indicare il proprio punto di osservazione implica un processo non scontato di estranea azione da sé e da parte del soggetto. Riflettere sul lato del guardare significa non soltanto verificare le condizioni che rendono possibile l'atto stesso, ma anche creare un'immagine astratta attraverso la quale l'io possa vedersi guardare, per così dire, la realtà da fuori. Al verso 4 questo sdoppiamento del soggetto diviene esplicito, ho freddo ma come se non fossi io. Ai versi 5 e 10, che chiudono la prima parte, la lacerazione della soggettività si sposta dalla dimensione corporea a quella del pensiero, acquisendo un valore specificamente metapoetico. Lio che guarda gli alberi seduto su una panchina ci dice, ho portato un libro, mi dico di essermi pensato in un libro come un uomo con un libro, ingenuamente. La ripetizione di libro che recorre tre volte nel giro di due versi scandisce diversi gradi di un progressivo movimento di astrazione del discorso. Nel primo caso il libro indica il referente concreto, ossia l'oggetto che l'io lirico ha portato con sé al parco. Nella seconda coerenza il termine assume invece il valore di sineddoche. Pensarsi in un libro significa visualizzare la propria figura di soggetto enunciante e agente proiettata nella dimensione del testo poetico, ossia della scrittura. Dare per scontata la sovrapponibilità tra l'io empirico che parla di sé e l'io lirico che quel sé diventa in un libro è infatti un gesto ingenuo, come leggiamo al verso 6. Nella terza occorrenza del termine il libro passa dunque dall'indicare il referente concreto all'essere un'immagine di secondo grado. L'io si vede nel testo che sta scrivendo come un uomo con un libro. L'avverbio ingenuamente che, come ha scritto Benedetti in un autocommento alla poesia, è la parola chiave per poter meglio aprire il testo, si riferisce inoltre in generale al processo di medesimazione che compie tanto all'autore che si pensa in un libro, quanto il lettore che crede di riconoscere nel soggetto della poesia proprio io. I versi 5 e 6 implicano dunque una presenza, una presa di distanza da un'idea di lirica intesa come espressione immediata di una soggettività, una distanza ribadita sul piano semantico del verso 7, pareva un giorno lontano oggi, pensoso. Questa lontananza, che è una delle parole chiavi della poesia di Benedetti, è necessaria a restituire in maniera autentica la realtà, compresa l'esperienza privata di un io. Qualsiasi rappresentazione è infatti una distanza nei confronti della realtà che chi scrive impone al lettore, il cui valore universale non può essere assunto prioristicamente, pena l'ingenuità. Ai versi 8 e 10 questo concetto ci viene ribadito attraverso tre esempi. Il parco nei quadri, il Natale nei racconti, le stampe su questo parco sono uno spessore soggettivo che l'artista aggiunge alla realtà con la speranza che tutti possano vederla così come egli la rappresenta e la restituisce. Secondo le parole di Benedetti, nell'autocommento che citavo prima, lo spessore è anche ciò che l'arte dovrebbe dare alla vita dell'artista. Come vediamo, la scrittura di Benedetti, più di altri poeti suo ecoetanei, mette sistematicamente in discussione l'assunto di adorno per cui il poeta lirico vorrebbe conseguire l'universale attraverso un'individuazione senza riserve, riflettendo non tanto il principio stesso di individuazione quanto il suo carattere esclusivo e anarchico, senza riserve. La precarietà propria dell'esistenza del sentimento del mondo dell'io si riflette sullo statuto della sua voce poetica. Niente infatti può garantire l'universalità del discorso lirico. Esplicitare la propria collocazione nel tempo e nello spazio, un inverno, una panchina vuota e quindi precisare il punto dal quale si osserva e si parla, ci traduce in una forma di sincerità nei confronti del lettore. Mi pareva, appunto, che tutti avessero visto il parco nei quadri. La seconda sezione della poesia, che corrisponde ai versi 11-14, segna uno stacco netto rispetto alla prima, marcato peraltro dalle cesure strofiche. La ripetizione dell'incipito al verso 11, che cos'è la solitudine, crea un parallelismo accostando il tempo stesso separando le due solitudini. La stessa strofa del testo propone un altro esempio specifico che consente al lettore di comprendere che cosa sia, concretamente, il concetto generico di solitudine. La protagonista dei versi 12-14, come vediamo, è una donna. Lo stile è qui estremamente asciutto e cronachistico, il discorso si sviluppa in un unico periodo paratattico, costituito da proposizioni brevi. Il soggetto annunciante ci racconta, al passato prossimo, le azioni compiute da personaggio femminile per suicidarsi. Nella sua tragicità, al lettore la scena appare quasi assurda. La donna, in un gesto indecifrabile di premura, stende una coperta sul pavimento per non sporcare, si stende a sua volta, prende un paio di forbici per colpirsi nel petto e, poiché non ha la forza per compiere l'azione, un martello con il quale colpire le forbici. La terza e ultima parte di che cos'è la solitudine, coincidente con il distico che chiude il testo, isolato da un altro stacco strofico, rappresenta una sintesi delle prime due. L'ho letto in un foglio di giornale, scusatemi tutti. Le poche foglie sui rami della prima sezione si trasformano qui nel foglio di giornale nel quale l'ho confessa di aver letto la notizia appena riportata. Il piano della rappresentazione lirica si mescola dunque a quello della cronaca. All'ultimo verso, rivolgendosi a un po' indefinito, la prima persona che parla chiede scusa. Il soggetto della proposizione a tutti, come al verso 7, vale a dire noi che stiamo leggendo la poesia. L'ho personaggio della prima sezione si presenta qui, senza più mediazioni, nel suo ruolo di io autoreale. Perché questo io autore si scusa con i lettori? Una prima risposta ci è data dallo stesso Benedetti nell'autocommento. Come potete leggere, il soggetto si scusa per aver cercato di trasporre la propria esperienza individuale e la propria biografia in un ritratto letterario di se stesso, di essersi pensato in un libro credendo ingenuamente che questo libro, ossia la poesia, poteste restituire la propria esperienza con più efficacia e legittimità. In sintesi si scusa per aver mostrato fiducia nel meccanismo della rappresentazione lirica. A mio giudizio è possibile però individuare un altro piano di lettura che non contraddice né esclude il primo, ma a questo si somma. Dato il contesto e il verso conclusivo, scusatemi tutti, non può non farci pensare anche al biglietto, al messaggio di Dio che solitamente lascia i propri carichi sceglie di togliersi la vita. Ad esempio quello dello stesso Pavese che è stato uno dei modelli di Benedetti, perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Se così fosse, a parlare nell'ultimo verso non sarebbe soltanto l'io autoriale che si rivolge ai lettori, ma anche la donna suicida, della quale prima ci sono state raccontate le ultime azioni e ora ci vengono riportate le ultime parole. In questo caso dunque l'io avrebbe letto su un foglio di giornale il messaggio della suicida del quale si appropria, scusatemi tutti. Un primo indizio a sostegno di questa lettura ci viene dato al confronto tra la versione di che cos'è la solitudine pubblicata nel 99 nel parco del Triglav, a sinistra, e quella definitiva di Humana Glory del 2004. L'unica variante, come vedete, tra i due test riguarda la sua divisione strofica nel finale. Partendo dalla questa attenzione che, come ha scritto Magro in un bel articolo, in questo testo è chiaro come gli stacchi tra i gruppi diversi obbediscono ad una ragione di ordine e di più netta scansione del discorso, il fatto che Benedetto abbia scelto di riunire in un unico odistico i due versi conclusivi ci suggerisce l'idea che esiste un legame più o meno stretto fra l'ho letto in un foglio di giornale e scusatemi tutti. La conferma definitiva a sostegno di questa interpretazione può arrivarci andando a rintracciare la fonte diretta di che cos'è la solitudine. Con ogni improbabilità credo che questa possa essere identificata in un trafiletto pubblicato sul Corriere della Sera il 30 maggio del 95 nella sessione Cronaca di Milano. Vi riporto qua nella slide l'articolo per intero. Innanzitutto abbiamo la conferma di come ai versi 12-14 sul piano dello stile Benedetti imiti effettivamente la scrittura cronachistica della sua fonte, anche per quanto riguarda una figura specifica come la ripetizione. Ha preso un paio di forbici, ha preso le forbici proprio sotto il cuore, sempre vicino al cuore e così via, riassumendo però l'intera vicenda in soli tre versi, nei suoi tratti essenziali. In secondo luogo la conclusione dell'articolo conferma la nostra lettura. La donna si uccide di cui parla Benedetti ha realmente lasciato in una busta, assieme ad alcune immagini di Santi, un messaggio di addio, perdonami. Sul piano dell'invenza si può anzi dire che nell'ultimo verso della poesia sia in primis la donna a prendere la parola, alla quale si superpone poi la voce e la figura dell'io autoriale. D'altra parte l'unione, o volendo l'interferenza tra i discorsi dei due individui, c'era stata già prefigurata all'inizio della poesia al verso 4, come se non fossi io. Nell'ultimo verso si stavola così un parallelismo, messo in evidenza dalla ripetizione di che cos'è la solitudine e dalla simmetria tra gli unici due sostantivi che qualificano i due personaggi, cioè un uomo al verso 6 e la donna al verso 12, un parallelismo, dicevo, tra le due solitudini. Quella della donna che si toglie la vita perché è rimasta sola è quella del poeta che pensa ingenuamente che tutti possano condividere la propria esperienza di mondo e riconoscersi nella rappresentazione che egli ne dà. Siamo per così dire soli, non è infatti il linguaggio che non può siamo noi esposti in esso dove l'arbitrarità di una parola e di una sintassi svincolate da obblighi di oggettivazione rivela la condizione di solitudine totale e senza colpa della vita. Solitudine che significa essere tornati su di noi perché altro non c'è, su di noi come sede del lungo dubbio circa l'evidenza naturale del mondo, come luogo delle motivazioni sostanziali di ogni nostra rappresentazione. Per questo siamo soli. Nel suo complesso e concludo, che cos'è la solitudine può essere letta proprio come una sorta di verifica delle possibilità di esistenza di un io all'interno di una poesia e dei modi in cui l'esperienza individuale può o meno essere ancora posta al centro di un testo lirico. Alla base della scrittura di Benedetti emerge però una più radicale messa in discussione del concetto stesso di individuo, di io e di soggettività, ossia di ciò che dovrebbe rappresentare il nucleo nel testo lirico. La prima persona si scompone, si guarda da lontano, si pensa in un libro nel quale però sa che non può riconoscersi. È un qualcuno da cui provengono parole strane, come ha scritto Benedetti in materiali di un'identità, che parola è questa mia o di chi? Allora chi parla? Un individuo precario e senza continuità che per esistere quasi con vergogna si aggrappa alla realtà a sua volta precaria che lo ci sfonda, parlandoci di altri mentre ci parla di sé. Scusatemi tutti. Grazie. Grazie, grazie Riccardo. Allora, mi state travolgendo con le vostre cose. Allora, ok, eccoci, ve lo vedo già. È qui Simone Burratti, che è il più giovane di tutti, qui dentro... No, Riccardo è più giovane di me. Riccardo è più giovane? Vabbè, allora tu sei solo in ritardo. Sono più giovane. Simone esce da Siena anche lui, ha fatto una triennale qui e ora è a Padova, sta lavorando, ha una tesi su Mario Benedetti che non si sa quando sarà finita perché è un po' ferma, però evidentemente mi dicono che era già piuttosto avanti e quindi ci farà sapere qualcosa in questa piccola relazione. Non dico niente della poesia, è stato però fondatore di un sito bello di poesia che si chiama Forma Vera, che esiste ancora, gestisce un canale YouTube sulla poesia contemporanea piuttosto divertente. È da tanto che frequenta la poesia di Mario Benedetti. Basta, ti darei la parola, Simone. Parlerà sempre di una poesia che è inumana gloria, che però è parecchio più antica, che è un frammento, ma ce lo dirai tu. Che cos'è la solitudine, uno di quelli più belli anche. No, non che cos'è la solitudine, quello era prima. Usa le file, i secoli della primavera, esatto. Sì, ciao. Allora, il mio intervento sarà molto noioso, ma spero altrettanto breve. Nasce dal fatto che nonostante gli studi più recenti, gli ultimi anni, su Benedetti stiano dando una buona interpretazione. Mi sembra che persista ancora questa vulgata per la quale Benedetti sarebbe un autore ingenuo, che non riflette tanto sul testo, che va a sentimento, per così dire, no? E' ovviamente una percezione che col tempo sta cambiando, che è sbagliata. E lo dimostri anche il fatto che appunto Benedetti ha fondato insieme a Stefano Dalbianco e a Fernando Macchiori, una rivista che è stata molto importante a cavallo, cioè nella fine degli anni Ottanta, che è Scarto Minimo, che era appunto una rivista di poetica. Ora, da questo punto di vista credo che per sfatare del tutto questo mito sia interessante andare a vedere effettivamente come la poetica di Benedetti si è spostata nel tempo, o come si è evoluta se vogliamo, almeno partendo dalle prime plaquette fino a Umana Gloria. Di studi in questo senso ce ne sono da quanto mi risulta pochissimi, c'è uno studio di Claudia Crocco, è uscito su Ticcon 3 un paio di anni fa, dovrebbero esserci degli studi, o comunque sia degli interventi di Roberto Cescon, ma non sono sicuro che siano già pubblicati. E niente, quindi se mi aprite il testo, io vorrei parlare di questo frammento che compare in Umana Gloria e in figure, che è un testo composto di quattro frammenti, ma che conosciamo nella sua versione definitiva già dal 2002, uscito in Borgo Collocanda. In realtà, come si vede già qui dall'immagine, ci sono ben quattro versioni di questo testo qui. E penso che possa essere interessante, anche se in modo molto breve, molto improvvisato, non vi spaventate, andare a vedere. Allora, prima leggo la versione definitiva, e poi non leggo le altre perché appunto, altrimenti tendo ad essere ripetitivo. La versione definitiva, quella lì che poi rientra nel testo figure, è questa. I secoli della primavera sono qui intorno. Noi siamo lì. Avranno detto questo vento di sera. Io sono contento, come una volta. Se andiamo a prendere la prima versione di questo testo, uscita nell'86 su scarto minimo numero zero, notiamo innanzitutto che ci troviamo di fronte a cinque versi. Cinque versi senza una vera e propria scansione metrica, però con una rima baciata, a vento contento, al terzo e al quarto verso. La cosa che possiamo notare da questa prima versione è che ci troviamo di fronte a una sorta di testo molto coeso. È come se fosse tutta un'unica unità, anche a causa della scarsezza di putteggiatura, a un'unica unità sintattico-semantica, per così dire, che è effettivamente un tipo di testo, un tipo di stile, che volendo potremo anche ritrovare spesso nelle poesie pubblicate non solo da Benedetti, ma anche dagli altri autori selezionati nei numeri di scarto minimo. Quindi, appunto, cinque versi, un'unità totalmente coesa, più inarcature, perché troviamo già un'inarcatura al primo verso, ne troviamo un'altra molto forte al verso 3, questo verso a capo di sera, e poi, se vogliamo, potremmo considerare una semi-inarcatura anche quella di là. Sono contento come una volta, perché non essendoci la punteggiatura potremmo anche considerare un tono ascendente, sospeso, per così dire no, quindi sono contento come una volta. Se andiamo, andiamo avanti di tre anni, nell'89, Benedetti reinserisce questa poesia in Il cielo per sempre. Sono, anche in questo caso, cinque versi, ma notiamo già delle differenze che sembrano minime, perché stiamo sempre parlando, per ricordo, di variazioni prosodiche e di punteggiatura, e che però vanno a modificare un po' l'assetto e la sensazione che il testo dà. Innanzitutto, notiamo che alla rima baciata esposta vento contento si sostituisce un'altra rima esposta tra il verso 1 e il verso 3, tra primavera e sera alternata, che dà un effetto leggermente più leggero, meno sonoro. Ma soprattutto, sempre parlando di unità sintattico-semantiche, se nel primo caso, grazie anche all'inarcatura di questo vento di sera, trovavamo, diciamo, un'unità generale, qui è come se i gruppi di senso andassero in qualche modo a parcellizzarsi. Quindi potremmo riunire i primi due versi in un'unica unità, il terzo verso quasi a sé stante, e poi gli ultimi due versi come una terza unità finale. Questa volontà, come dire, di suddividere il discorso, anche in favore di una migliore forza di chiarezza, la troviamo anche nella versione che poi esce più in là, che è forse da qui che cominciano ad esserci le differenze più sostanziose. Questa versione dà il titolo, non a caso, all'antrologia dei secoli della primavera, e la prima cosa che notiamo è che in questo caso i versi sono quattro, quindi ci troviamo di fronte a una vera e propria quartina, tanto più che permanendo la rima esposta primavera-sera ci troviamo appunto con quattro versi di cui due è rima alternata e altri due irrelati. In questo caso notiamo che rimane una sola singola inarcatura al primo verso, mentre in tutti gli altri possiamo anche notare una certa regolarità, per così dire, verso la prosa, con tanto di punto finale al terzo verso che separa totalmente l'unità sintattica rispetto al verso finale, che accorpa quelli che prima erano due versi, e in un certo senso, grazie appunto a questa virgola, va anche a modificare l'intonazione che si dà, che si poteva dare prima a quel verso, precisandola con un'intonazione da leggere appunto così, io sono contento come una volta. E arrivati a questo punto, la poetica di Benedetti sembra aver trovato una sua direzione. E le ultime modifiche che abbiamo a questo testo le vediamo nell'ultima versione, che è quella che ho letto poco fa, che in realtà è molto diversa da tutte le altre tre. Siamo anche qui di fronte a quattro versi, versi, ma per la prima volta non troviamo più rime esposte. Più importante, le unità sono quattro, nel senso che ci troviamo di fronte a zero inarcature e quattro versi frasi, ben separati l'uno all'altro, tutti che si concludono con un punto. Quindi i secoli della primavera sono queintorno, punto. Noi siamo lì, in questo caso dividendole in due versi si rafforza questa dicotomia tra il qui e il lì. Avranno detto questo vento di sera e vediamo che per la prima volta non troviamo la virgola per annunciare il discorso diretto, ma troviamo appunto i due punti e le virgolette basse, come per uno sforzo di chiarezza, per così dire. E poi l'ultimo verso che rimane invariato come nella versione precedente. Ora, queste volevano essere solo suggestioni, però mi sembrano già abbastanza utili per far vedere come Benedetti lavorava sui testi e qual era la direzione, che appunto molti hanno parlato appunto di una lenta progressione verso il prosastico, verso il verso lungo, e sì, certamente, ma più che prosastico, ho visto anche che non ci sono particolari, come dire, incursioni prosastiche verso il basso dal punto di vista lessicale. Credo che si debba parlare più di un grado zero e di un appiattimento di tutti quei segnalini formali che, se andiamo a vedere di nuovo la prima versione, erano molto più evidenti. E questo? Secondo me questo è uno dei modi per, sia per capire come dovremmo approcciarci a leggere Benedetti, ma anche per capire effettivamente qual è la direzione del suo lavoro. Sarebbe interessante poi fare un confronto magari con pitture nere, che di nuovo cambia tutte le carte in tavola. Grazie Simone, sei stato velocissimo e molto chiaro. Questo è un testo a cui sono legato parecchio anche io, perché appunto è dell'86 e c'ero anch'io quando Mario scriveva queste cose. Passo subito a chiamare, che vedo, Tommaso di Dio, che devo ringraziare perché è reduce da un vaccino e aveva la febbre fino a poco fa, speriamo che gli sia passata. Tommaso è stato amico di Mario negli ultimi anni e ci parlerà di un testo da materiali di un'identità del 2010 che è l'Azzurro, che credo abbia parecchio a che fare in realtà anche con il periodo poi che quello del libro che non verrà trattato quest'oggi che è pitture nere su carta. Tommaso è stato uno dei pochi a avere il coraggio di affrontare quel libro in altra sede e molto bene. Tommaso di Dio abita a Milano si occupa anche di filosofia e di traduzione è un membro del comitato scientifico del laboratorio di filosofia e cultura che si chiama MECRI ed è anche tra i curatori del progetto di poesia e arti visive ultima ha pubblicato diversi saggi e cito soltanto da ultimo insomma la prefazione alla riedizione del volume del quaderno di traduzioni di Vittorio Sereni del musicante di Saint-Marie per il saggiatore e la recentissima traduzione del libro di Williams Carlos Williams la primavera e tutto il resto Tommaso vai grazie a te Stefano e a Guido Mazzoni per l'invito sempre Emanuela Carbet che ci aiuta nella regia procedo subito con la lettura di tre frammenti e poi procedo con il mio cammino ma tu io ti togli da me l'azzurro senza rumore gambe capelli nebulosa del fascio dei corpi ecco l'azzurro gemiti di ciò che è stato padre in casa schianti di porta e passi io di me se ne va finestra nella pioggia chi piange seguimi la luce è questa gli spettri visibile se non ti vedo io non mi vedo schianti di porta e passi morire sarebbe dolce darti la vita dartela ecco l'azzurro due siete stati diverrete diverrò ecco l'azzurro darvi la vita darmi la vita dillo ecco testi che che abbiamo avete ascoltato sono tre frammenti dei cinque come dicevo che costituiscono il primo il secondo il quinto che costituiscono il poemetto l'azzurro che conclude il libro di mario benedetti dal titolo materiali di un'identità che è stato pubblicato da transeuropa nel 2010 materiale di un'identità è forse il libro di mario benedetti più scaleno più obliquo più composito è stato già accennato prima interventi precedenti nonostante questo non credo sia il più arduo anzi forse è uno dei suoi libri più più aperti in qualche modo anche se non ha un solo modo per essere avvicinato ci si può avvicinare in molti modi a materiale di un'identità a questo esile e denso libricino ma credo di non sbagliare troppo se se suggerisco che esso possa costituire una sorta di di doppio fondo dell'intera opera di mario benedetti un luogo segreto dove paradossalmente non si tiene segreto niente no? anzi il cui segreto sembra proprio è stare nello svelamento no? del corpo pulsante di una di una poetica appunto come avviene questo questo svelamento? beh innanzitutto materiali di un'identità ha una natura profondamente ibrida ibrida perché non solo unisce prose a poesie ricordi a brani di invenzione la certi disagi critici a inserti metodologici e addirittura un'intervista proprio con Claudia Crocco e non solo anche perché rappresenta un ibrido temporale alcuni brani infatti furono scritti per la pubblicazione di questo libro nei mesi precedenti altri invece furono scritti molti anni prima della pubblicazione in un modo di comporre i tempi che assomiglia un po' a quello che fu anche attuato da Mario Benedetti durante la composizione di Umana Gloria nel 2004 che come sapete raccoglie molti tempi ma insomma è un ibrido anche perché rappresenta un passo di lato e insieme un approfondimento diciamo così tiene insieme più nature compone le differenti nature del linguaggio e della vita le guarda le osserva vivere sulla pagina e fuori le tratta appunto come frammenti di un intero già da sempre non più intero ecco perché infatti il titolo molto importante evocativo significativo materiali al plurale per una singolarità la supposta identità che però è indicata fin da subito come un destino a venire per un'identità non come un presupposto non si viene da nessuna identità sembra dirci Mario Benedetti così da un lato in questo volumetto si conduce un'analisi di alcuni nuclei portanti del lavoro di Mario Benedetti ma al contempo appunto è un libro che indica delle piste che addirittura mostra delle insorgenze a mio parere radenti della poetica di Mario Benedetti che illuminano un versante della sua scrittura che se restassimo ai tre libri maggiori degli anni 2000 forse rimarrebbe più in ombra allora questo libro lo ricordiamo ha una collocazione peculiare in quella che Mario stesso in una conversazione privata indicò come una saga familiare i tre volumi del 2000 cioè si incista appunto fra umana gloria del 2004 dopo però il rovesciamento fondamentale di pitture nere su carta del 2008 che è come se fosse davvero un controcanto di umana gloria e prima però ecco di quel terremoto biografico che sta a fondamento diciamo così della scrittura di terza morte del 2013 lo sapete la morte del fratello della madre quindi non solo dunque getta uno sguardo dico materiale di identità retrospettivo sul lavoro di Mario Benedetti ma anche per via di cunicoli carsici diciamo che conduce fa un salto dopo terza morte o comunque alle estreme conseguenze dell'ultimo libro e si connette alle ultime poesie le ultime bellissime estreme poesie pubblicate su nuovi argomenti nel numero 69 nel 2015 in una breve sequenza dal titolo proprio questo inizio di noi insomma è come se questo legame ancora aspettasse di essere pronunciato con attenzione fra queste ultime poesie e questo poemetto è come se il verso ma tu io ti togli da me e apre l'azzurro è il bellissimo verso di una poesia di Delica che è una poesia contenuta appunto nella sequenza del 2015 pubblicata su nuovi argomenti che recita ma ci vuole affetto per parlare dell'affetto per scrivere come se fra questi due versi si creasse un cortocircuito potente un battimento che resta ancora da sondare diciamo così cioè in che modo infatti l'affermazione di un io che si toglie si coniuga con la rivendicazione dell'affetto sembrano termini in contraddizione no? o c'è io e allora c'è affetto oppure non c'è io e l'affetto è una strada stilistica non più percorribile si direbbe il punto è che proprio tutta la poesia di Mario Benedetti secondo me anche in questo sta una delle sue grandi eredità non sta in questi termini non è né dell'uno né dell'altro polo sta invece in quella che bisognerebbe iniziare a chiamare un oscillamento continuo vertiginoso fra questi due poli Mario Benedetti in questo in questo libro la chiama sulla scorta di Georges Bataille la lacerazione del vertice ecco proprio su questo si apre no? questo volumetto la lacerazione del vertice è la scoperta che non siamo tutto e che moriremo ecco ma se questa affermazione resta un'affermazione intellettualistica allora sì questa affermazione non significa niente ha solo un significato verbale diciamo così la forza della poesia di Mario Benedetti è che fa di questa scoperta il tentativo di quella che lui stesso definisce sempre sulla scorta di battaglia un'esperienza interiore ovvero un'esperienza affettiva vorrei dire io e vorrei ricordare che affectus è una modificazione no? dell'elan vitale dello slancio vitale del soggetto quindi un'esperienza affettiva per la quale la scoperta dell'essere frammento mortale di un tutto incomponibile giunge però a trasformare lo sguardo di chi scrive è come se vedere il mondo in frammenti sentirlo così fosse iniziare a vederlo in modo diverso sentirlo appunto compositivamente nei materiali di un'entità si insiste su questo aspetto la realtà è appunto frasi della vita ossia frammenti dispersi frammenti linguistici distorta musica in qualche modo eppure contemporaneamente si avverte che per tutte le pagine di questo libricino Benedetti provi a rappresentare quella che ha chiamato insomma Milo De Angelis solitudine non orfana uso questo verso perché proprio su questo verso Mario Benedetti ha fatto scritto un saggio fondamentale per la sua poetica proprio in scarto minimo quindi una solitudine del frammento che però sta insieme a una spinta compositiva non è orfana questa solitudine sono diciamo così il medesimo movimento la solitudine la composizione della lacerazione del vertice proprio nelle prime pagine del libro Mario Benedetti già ci mette su una strada precisa traduce a suo modo un testo di Goyama Polinaire del 13 e si sofferma su un passo che così traduce Mario popoli si accatastavano e io apparivo formato da tutti i corpi e le cose umane formato da tutti i corpi e le cose umane vedere il proprio frammento come tale sentirlo vivere vederlo parlare scrivere e al contempo scoprire come tutto il mondo e il nostro corpo in primis è costituito da alterità da altri frammenti è composito è costruito come dire dalla somma non algebrica di tutto ciò che c'è i frammenti ricomposti direbbe Benedetti in fievole storia in fievole storia in precaria connessione di scrittura storiale ecco così il problema dell'io come frammento dischiude un'area di percezione profonda del tu il tu diventa la mancanza che sentiamo e che paradossalmente possiamo dire salda l'eccesso di cui trabocchiamo di eccesso parla proprio in materiale di identità con grande profondità Mario soggetto come eccedente un fiore che cresce più di quello che possa è stato già ricordato ecco perché questa alterità è talmente presente in questo in questo libricino che ne fa forse il libro più erotico che Mario Benedetti abbia scritto erotico perché perché è un libro pieno di segnali di dialogo segnali di alterità di appelli alla presenza altrui è un libro pieno di desiderio dell'altro darti la vita dartela il libro il cui titolo avrebbe dovuto indirizzare diciamo così al punto più idiomatico e chiuso monadico l'identità idiota del singolo è invece il libro delle domande di Mario pieno di punti interrogativi veri o apparenti lasciati vibrare sulla pagina lasciati al loro silenzio e al silenzio di una risposta possibile sembra quasi che siamo noi lettore dover colmare dover rispondere cioè questo libro chi ama a presentarsi a immaginarsi a farsi avanti come lettori a sentirsi presenti in una prosa fra le più belle di questo libro che si chiama Come vuoto qui troviamo scritte queste parole era possibile incontrarlo era possibile incontrarlo col bisbiglio era possibile con gli occhi appena aperti avvicinarlo col tu siamo insomma diciamo così in una sorta di afferesi vitale siamo nell'interruzione sì nello spezzato nel lutto del frammento ma qui siamo chiamati più degli altri libri forse soltanto come avverrà nell'ultima sequenza questo inizio di nonno siamo chiamati a diventare fra le righe qualcosa un vuoto che salda la mancanza un vuoto che salda la mancanza scrive Mario Benedetti a un certo punto sempre in un'altra poesia Maciado virgola Goya insieme virgola ciò che manca era sciolto come se a coloro che dovessero stare insieme nella parola poetica no? dovesse essere sciolto insieme il vuoto della mancanza la frattura la mancanza si diluisce nella composizione spezza la sintassima quello spezzato è ciò che tiene insieme nella composizione di frammenti in un nuovo evidentemente inedito forse utopico stare insieme questa mancanza questa interruzione abbiamo detto è tradotta in mille modi nell'opera di Mario Benedetti è tutto un capitolo di perlustrazione aperto già in parte perlustrato ma qui in queste pagine si fa continuo esplicito riferimento alla necessità di fermarsi come se non si può leggere questo libro senza continuamente interrompere la lettura chiedersi cosa sto leggendo cosa ho letto cosa ho fatto leggendo continuamente quindi c'è la richiesta da parte di questa prosa di prestare attenzione guardare il discorso di scorrere guardare come si ferma sabotare insomma la de pan simplicità in ogni sintassi quindi cercare di avvertire l'inavvertito questo sempre per quella lucida stupefatta visione di cui diceva prima anche Claudia Crocco guardare insomma abbiamo detto gli strumenti della scrittura mentre li si usa non è un caso frasi nella vita guarda bada che sono solo frasi come se ci dicesse spesso all'inizio dei capitoli proprio Mario Benedetti enuncia la tipologia testuale con cui verrà scritto il testo che segue proprio a farci carico della tipicità delle strategie retoriche con cui lo scrive ecco si fa continuo appello a quella che a quella diplopia quel vedere vedersi quello sguardo sdoppiato che Benedetti è eredita certo da Zanzotto grande maestro di Mario Benedetti fino all'ultimo fino all'ultimo libro sul comodino quel bellissimo libro di Zanzotto idioma ma che appunto fa proprio mediante una continua ripetizione delle panortosi del balbettio dell'interruzione della reticenza della sospensione come se appunto Benedetti si riappropriasse di questo sguardo diplopico a suo modo attraverso questa strategia dell'interruzione ad un certo punto nel capitolo ottavo scrive Mario Benedetti queste righe macchina insoggettiva portatile e trema vado avanti ecco questo continuo fermarsi e chiedere no questo voler accanitamente quasi creare una lingua poetica fondata sull'interiezione e sulla sospensione no non costituisce forse che una falda diciamo così in cui tutto il novecento sprofonda o almeno per me questo ha significato leggere Mario credo non essere solo in questa percezione una falda in cui tutto il novecento sprofonda e ci offre quindi la possibilità di ripensarlo di riattualizzarlo no ho già avuto modo di dire in un bell'incontro a Perugia anni fa che la sua è una retorica che depone la retorica una lingua che depone la lingua no ecco ma in questa sua deposizione questo suo apparentemente gesto depotenziante ecco riassegna la scrittura una volta di più è così la poesia non ad un nichilismo ingenuo o intellettualistico cioè non ad una parodia cioè non possiamo che ripetere siccome il linguaggio non funziona ora giochiamo ma all'attenzione vorrei ricordare come finisce lacrime dieci in pitture nere su carta una delle poesie forse più belle degli ultimi vent'anni di poesia forse di più è una straordinaria poesia di pochissime parole costruita tutta mediante un sofisticatissimo movimento di virgole e punti fermi no Mario Benedetti era ossessionato dalla punteggiatura come prima ha spiegato benissimo Simone Burratti ecco finisce lacrime dieci con il verso non guardati abbastanza mai attenzione ecco Mario adesso da un altrove che non sappiamo dire che è inutile anche nominare alla nostra disattenzione e alla nostra disaffezione ai saperi che la coltivano e la tanta brutta poesia che non ci aiuta perché nutre un sentimentalismo narcisistico all'opposto un cinico e troppo umano intelletto come si dicesse ecco l'azzurro il poemetto conclusivo di materiale di identità ecco qualcosa che fa stare insieme i frammenti perché saldati da ciò che a ciascuno manca perché ognuno è animato dai vuoti che ha dall'altro perché scrivere poesia in qualche modo sembra sottolinearci Mario non è servire la solitudine dell'idiota ma è provare a vedersi costruiti della parola del corpo degli altri intrisi delle domande delle lacune dei desideri degli altri questo sembra ci liberi dalla legge dell'io ma io ti togli da me e annuncia uno spazio che Mario Benedetti chiama della compresenza della compresenza dove tutti sono me pronomi indiretti frammenti obliqui saldati insieme perché ciascuno segue l'altro ed è pronto a dare vita perché come scrive nel secondo frammento che abbiamo letto dell'azzurro se non ti vedo io non mi vedo così soltanto sembra indicarci Mario Benedetti si può ricominciare da quel punto che conclude le pareti quella prosa bellissima che così finisce e da qui anche noi da questo azzurro in qualche modo da questo spazio che lega i frammenti non legandoli a nessuna identità a nessun io ma lasciandoli obliqui indiretti ecco forse anche noi possiamo cominciare qualcosa grazie mille Tommaso grazie è servito davvero forse a colmare un buco questo intervento passo subito a Maria Borio Maria Borio eccola lì anche lei esce da Siena non dico niente della poesia ha pubblicato due monografie importanti una su Satura di Montale e sulla lirica contemporanea e una che è Poetiche individui nel 2018 tra le altre cose ne fa tantissime cura la sezione poesia di nuovi argomenti da rivista di Mondatori prego Maria grazie a tutti sono un po' imbarazzo per la sera alla fine mi sento come anche la chiusura nei confronti della biografia di Mario perché appunto le ultime poesie questo inizio di noi sono uscite proprio nel numero che è stato citato prima di nuovi argomenti mi ricordo che fu un po' una lotta per pubblicarle all'epoca io ero proprio piccolina piccolina però ce l'abbiamo fatta quindi sono lì allora il testo che ho scelto viene da Terza Morte che è l'ultimo libro compiuto di fatto che esce nel 2013 e se Emanuela riesce a condividere ecco grazie ora ve lo leggo quante parole non ci sono più il preciso mangiare non è la minestra il mare non è l'acqua dello stare qui un aiuto chiederlo è troppo morire e non c'è nulla vivere e non c'è nulla mi toglie parole e non ci sono salti mani che insieme si tengono alla corda sorrisi carezze baci un'alanda impronunciabile è il letto nella casa di riposo dei morenti agitata negli spasmi del sentire e di vivere ancora in provincia di Udine codroipo il malato ai due polmoni i pantaloni larghi il viso con la pelle attaccata alle ossa il naso a punta non sono la storia da raccontare né i ricordi arido sapere arido sentire e io dico accorgetevi non abbiate solo vent'anni e una vita così come sempre da farmi solo del male allora cerchiamo un pochino di entrare nell'opera di Mario attraverso questo testo che però commenterò commenterò di lato allora come dicevo il libro da cui viene questo testo è l'ultimo libro e rappresenta un po' diciamo un punto fermo da cui si può fare uno sbattoso compiuto che dà anche la panoramica della poetica di Mario Benedetti dagli anni duemila in poi e anche tutto quello che lui ha lasciato soprattutto alle giovani generazioni che lo hanno recepito come un come un modello di cui la prima traccia fondamentale viene da Umana Gloria che si può dire sia il grande libro grande tra molte virgolette grande anche per indicare l'ampio il processo compositivo che c'è alle spalle che è un processo che dura anni ed anni e non a caso proprio come avete sentito su Umana Gloria sono stati fatti ben quattro interventi su su sei quindi come dire i pesi i rispettivi pesi sono abbastanza evidenti e quindi terza morte e questo testo in particolare un testo a cui sono molto affezionata segna un passo da cui guardare al ritroso un passo dopo il quale con le poesie di questo inizio di noi c'è l'accenno dell'avvio di qualcos'altro infatti questo inizio di noi doveva essere il nucleo originario di un nuovo libro a cui Mario Benedetti stava lavorando ma che rimane così come un incompiuto anche nella bellezza dell'incompiuto e in questo passo da pulito roso quali possono essere gli elementi gli elementi più di spicco e quelli che la poetica di Mario ha lasciato alle giovani generazioni io direi che possono essere questi un senso forte di visività il senso forte del ritmo di una riflessione sul ritmo che ci sgancia anche da certe maglie strette di intendere di leggere la metrica e poi dal punto di vista così ermeneutico la capacità di farci interrogare su chi siamo che è un tema un tema atavico della poesia e della letteratura in generale ma lui riesce a farlo in un modo come dire nudo in un modo totalmente esposto creando un'identità completa tra la biografia il senso antropologico dell'uomo e la forma e riesce a fare tutto questo attraverso una lingua flessa ora l'espressione lingua flessa non è mia ma l'ho imparata l'ho imparata da Donata Ferolli che mi ha detto Mario fletteva la lingua dall'interno e quest'idea di flessione riesce a farci intuire molte cose una flessione che fa sì che tutto sia nel corpo interno della poesia la poesia ci si presenta proprio come uno schiudersi continuo ma anche tragico che però fissa con esattezza tutti i punti frammenti gli angoli di questa flessione anche di questi di questi scarti tanto è vero che Mario quando scriveva scriveva in modo piuttosto copioso e poi sfrondava come se volesse portare a toccare l'osso o meglio proprio i nervi di qualcosa i nervi di un senso i nervi di una forma creando così che una specie di intensificazione che proviene dal basso dentro viene da un essenziale ora come apro una parentesi storica un po' di storia letteraria che forse per chi ci ascolta può essere anche utile Mario inizia a scrivere tra la fine degli anni settanta e gli inizi degli anni ottanta in un clima che è dominato fondamentalmente dalla visionarietà dell'orfismo una poesia totalmente oscura quella per dire dell'antologia la parola innamorata e dall'altro lato la destrutturazione sperimentale della lingua che viene poi dalle avanguardie che aveva una forte connotazione ideologica e entrambe le due tendenze che cosa facevano deformavano la rappresentazione della realtà ma sono anche gli anni in cui Antonio Porta diceva è necessario per la poesia trovare una via di comunicazione più aperta e sono gli anni in cui poi scarto minimo incomincia l'espressione scarto minimo che viene ripresa dai formalisti russi da Shklovsky se non sbaglio vuol dire cercare una lingua che abbia uno scarto minimo rispetto a quella parlata ma che in questo modo crei una letterarietà vicina alla sostanza e alla verità antropologica degli individui del presente della contemporaneità da queste premesse storiche quello che l'opera di Benedetti è riuscita a fare si può sintetizzare in due direzioni la prima è come si può rappresentare in scrittura l'esperienza di un individuo in modo autentico senza trasfigurarla in pose eroiche istrioniche profetiche e la seconda è come la poesia può essere uno spazio di conoscenza e di insegnamento è chiaro che ci sono per costruire tutto questo percorso questa architettura ci sono delle coordinate geografiche cronologiche ben precise e due temi direi fondamentali che sono quelli lo sguardo e quello della morte e quindi veniamo poi a terza morte in particolare al testo che che ho scelto i luoghi i luoghi sono sono il friuli qui c'è Codroipo che torna i luoghi della sua infanzia i luoghi dove il momento del ecco appunto in provincia di Udine Codroipo saranno anche Milano ovviamente la città poi i luoghi della Francia del nord la Normandia e anche della la Slovenia quindi tutti i luoghi di confine una collocazione geografica che ci fa individuare Mario Benedetti anzitutto come un poeta italiano un po' tipico Mario Benedetti è un poeta europeo alle tradizioni europee come la poesia dell'est Europa la poesia francese molto di più rispetto alla tradizione italiana questo è un punto fondamentale da ricordare e quella mitte l'europea cioè da Trachel poi e poi lui traduce De Ghi nel 1986 edizione che si può trovare edizione di Sossella quindi in questa geografia la poesia che appunto io vi ho proposto è una specie di condensato ultimo incentrato sul problema della lingua e sull'atto di nominare quante parole non ci sono più domanda la letteratura cioè la poesia in questo caso può credere di rappresentare la vita può essere così ingenua da credere veramente che con un atto semplice e netto riesca a rappresentare la vita come ad esempio per le forme della lirica storica d'altra parte la figura dell'idiot boy di Wordsworth ricorre ricorre in terza morte e oppure è venuto il momento per la poesia di innestare di innestare uno scatto cioè come si può dare spessore conoscitivo innanzitutto a questa consapevolezza e qui viene il discorso della morte che è un motivo insomma centrale più che altro anche ossessivo direi da moriremo guardati fino al nostro libro del 2013 la morte è un problema individuale Mario la vive la viviamo tutti ma lui la morte dei cari insomma viviamo il problema di come costruire ricostruire la nostra biografia a partire da questi da questi lutti ma entra anche in un discorso dinamico di poetica e in che modo la morte non ha una connotazione qui che appartiene alla tradizione dell'Elegia come era quella dei canzonieri in morte per esempio quindi morte non vuol dire commemorazione con pianto e legia con nostalgia ecco un'altra dimensione ma la morte indica un sempre un essere in bilico una dialettica tra il vissuto e la sua pericolazione tra la meraviglia e la consapevolezza prima si diceva ecco la meraviglia della casa della Giave si parlava anche di perdita della biografia è lui stesso diciamo Mario stesso a sostenerlo in uno scritto uno scritto che esce su scarto minimo nel 1988 che si intitola Stupore e lucidità ed è interessante già il titolo perché i due termini sono legati in una coesistenza paratà avrebbe potuto dire stupore e lucidità invece stupore e lucidità questa è ipotetica coordinativa che avrebbe presupposto una loro esistenza indipendente viene tagliata fuori quindi c'è uno scambio parallelo netto una compenetrazione totale la meraviglia e la consapevolezza la favola potremmo dire e la storia l'infanzia e la maturità la biografia il vissuto pieno e la perdita della biografia io così rileggendo le poesie di Mario l'ho fatto l'ho fatto tempo fa quando cioè tipo sei sette mesi fa quando è uscito il numero di nuovi argomenti il numero cinque della nuova serie del duemila e venti in cui c'è una sezione a lui dedicata con interventi di Guido Mazzoni di Andrea Cortelles questo ricordo di cioè c'è una recensione che Andrea Zanzotto aveva fatto al suo che sempre era uscita era stata trasmessa sulla radio svizzera italiana siamo negli anni ottanta e quindi rileggendolo proprio ho ritrovato diciamo una formula chiamiamola così stilistica che potrebbe essere estesa a tutta l'opera che è quella dell'appare predicato cioè pensate proprio ai magari questa poesia non ce ne sono tanti però lo dico perché è sintomatico i predicati come cose guardate toccate portate questo essere predicato mette sempre in evidenza una condizione in cui l'essere delle cose e l'essere stato delle cose sono compresenti cioè proprio per quella dinamica come ho detto prima di stupore e di lucidità e come si verifica come si riversa poi tutto questo nella scrittura allora in primo luogo c'è un assottigliamento retorico l'avete sentito nel testo che ho letto e c'è un espessimento però anche delle immagini concrete quindi la retorica è semplificata però le immagini la cui connotazione visuale è fortissima sono molto molto più forti e poi c'è una dinamica molto interessante che è quella dei versi frase che forse Mario riprende da Trackel per esempio come all'inizio qui quante parole non ci sono più punto fermo il preciso mangiare non è la minestra punto fermo il mare non è l'acqua dello stare qui e ancora all'interno del testo le trovate cioè ci sono come dei salti sintattici che vengono aggiustati ritmicamente che ritmicamente funzionano benissimo che potrebbero essere ascritti a questo discorso dell'apparire predicato prima citavo Deghi Deghi è un attore francese magari anche non particolarmente significativo in sé almeno io non lo trovo sviluppa nella sua poetica un concetto che è quello della giacenza e la giacenza è una condizione per la quale l'essere in presenza e l'essere in assenza si compenetrano in una diciamo costante prospettiva di essere in perdizione cioè accettare la perdita accettare il distacco della biografia accettare lo sguardo lucido dopo quello dopo quello dello stupore e quindi accettare anche uno stato di non concordanza anche stare dentro la provvisorietà della vita però però in questo stato di non concordanza ora Mario diciamo che anche è maturo perché questo libro viene scritto comunque dopo i 50 anni usa una parola chiave alla fine che io ritengo fondamentale e che è accorgetevi accorgetevi non abbiate solo 20 anni potrebbe essere una formula no che mi viene da interpretarla così dico i poeti oggi non devono non devono solo esprimere se stessi non devono consolare ma ci fanno accorgere cioè riescono a intensificare le contraddizioni della vita quindi la verità e anche l'autenticità della vita la poesia non dà certo soluzioni non è regole non è né un credo né un detto né una formula pragmatica ma ci fa accorgere punto di domanda e quindi diciamo che dal punto di vista anche se vogliamo etico con terza morte Mario riesce quasi a saldare una prospettiva su una scrittura che parte dall'assunto certamente che lì o la biografia è comunque un elemento da qui che non si può evitare però è inutile camuffarlo in modo ironico come facevano i postmoderni e dall'altra parte esporlo così in modo confessionale può diventare un po' grottesco ipertrofico però qual è la giusta prospettiva per usare questa questa questo sguardo individuale in poesia oggi in letteratura cioè lì può dire la verità e come può dirla può stare in poesia senza falsificazioni ora l'ipotesi qui è che l'esperienza diventi un modo per conoscere nei limiti coscienti della storia di un individuo e della sua carità del suo mondo il diciamo così ciò che ci circonda sempre nel nel cerchio nel contesto di un limite e questo ci porta anche ad abbassare l'ideale umanistico cioè a farlo proprio entrare dentro a farlo entrare dentro quella quella come si quella lingua flessa ecco quella lingua che viene che viene dal basso quella lingua che scardina non a partire da un sistema sovrastrutturale o anche ideologico ma proprio da dentro le contraddizioni da dentro la non concordanza e tra l'altro in quella recensione di Zanzotto al cielo per sempre Zanzotto parlava del significato che il cielo aveva in quel libro di Mario e diceva il cielo non è qualcosa di netto di pacificato ma indica i contrasti contrasti e quindi una un'armonia di contrasti è proprio l'essenza prima della non concordanza e da questo punto di vista si può dire che la poesia di Mario Benedetti per concludere riesca anche a lanciare un tipo di visione quasi quasi saggistica del fare poesia saggistica anche termini nei termini che il sapere il sentire vengono vengono fusi mescolati arido sapere arido sentire nel caso del nostro testo ma allo stesso tempo questo tipo di sguardo conoscitivo chiamiamolo così saggistico viene dalle parti interiori dalle parti intime e anche dalla parte affettiva perché l'affectum come è stato detto prima corrisponde etimologicamente ad una intensificazione e questa intensificazione sta nel nucleo nel centro delle contraddizioni Maria grazie allora la chat è aperta vedo che è comparso anche Guido vi invito tutti a leggere l'intervento bello che ha fatto Tommaso Ghezzi in chat che non commento perché non ce la faremo mai Guido vuoi dire qualcosa tu vediamo se sei in grado di tirare le fila ti do una medaglia direi che non è non è il caso di tirare le fila per lasciare spazio invece agli interventi del pubblico se ce ne sono a questo proposito magari leggerei l'intervento di Tommaso Ghezzi leggendolo prima volevo dire una cosa puntuale per l'intervento di soci su che cosa è una solitudine perché io avevo chiesto a Mario esplicitamente se scusatemi tutti poteva riferirsi alle parole della donna e Mario mi aveva detto due cose diverse all'inizio mi aveva detto no che appunto quel verso era da attribuirsi all'io e poi aveva detto forse giusto per per aggiungere un materiale di testimonianza a una questione di interpretazione del testo quell'articolo di giornale è da molti punti di vista davvero illuminante leggo l'intervento di Tommaso Ghezzi si è parlato in maniera puntuale illuminante di lingua flessa di depan simplicita ma sulla sintassi sghemba e a logica di umana gloria attraverso la quale lo sguardo poetico di Benedetti sembra abdicare alla possibilità di una conoscenza oggettiva sarebbe interessante analizzare in che modo e con quale rinforzo in molto casi gli accordi grammaticali siano invece corretti e il tasso di letterarietà sia più alto nella poesia affrontata dall'intervento di Claudia Crocco ad esempio è interessante il raffronto simmetrico tra il verso 6 in cui la sintassi appare sconnessa e ricalca gli andamenti del parlato e il verso 13 in cui la sintassi qui corretta è assertiva e l'anastrofe finale la sera è lungo il muro dipinta fornisce maggiore carica poetica questa che ho scritto non è una domanda quanto più una suggestione e non necessita una risposta grazie veramente di cuore a tutti voi per questi preziosissimi interventi mi unisco anch'io ai ringraziamenti perché ciò che avete detto era esattamente ciò che noi volevamo che venisse detto l'impostazione dei vostri interventi era come l'avremmo desiderata precisa puntuale legata legata al testo e di questo veramente vi ringraziamo corgo questo ultimo spunto magari per raggiungere una cosa sempre sul puntuale sulla metrica di di Mario con l'intervento di Simone Burratti anche lì avevo Mario una volta parlavamo della metrica di Mario della sua idea di quando si andava a capo e parlavamo della evidente crisi della metrica che c'è stata negli ultimi decenni nella poesia italiana e se ne potrebbe parlare a lungo un giorno lo faremo io gli dicevo Mario tu in realtà vai a capo secondo una una logica un principio che non è più metrico e lui continuava a parlare di novenari pascoliani che ogni tanto fluttuano galleggiano in umana gloria ma non sono non sono così evidenti e in realtà vedendo quel processo genetico che Simone Burrati ha mostrato lì si ritrova probabilmente quello che Mario voleva dire cioè che uno dei suoi pedali di partenza già tradito nella partenza però presente nell'orecchio era proprio quel tipo di novenario che aleggia nel testo nel testo che Simone ci ha mostrato un'osservazione brevissima forse un po' un po' pedante però cerca una cosa che aveva detto Socci praticamente nel mondo dei videogiochi c'è questa diciamo leggenda metropolitana ma chiarita per la quale alcuni giocatori tendono a preferire tra cui il sottoscritto tendono a preferire l'inversione della telecamera dell'asse Y della telecamera sullo stick mentre giocano che vuol dire che fondamentalmente se tu stai muovendo una telecamera per il mondo di gioco e mandi e vai giù con lo stick in teoria dovresti guardare in basso se la mandi in su dovresti guardare in alto ecco alcune persone per questo c'è proprio un'opzione fanno il contrario e cioè quindi quando vanno in basso si aspettano che la telecamera vada in alto adesso non so se avete capito fatto sta che quello che diceva Socci appunto parlando di che cos'è la solitudine è di questo vedersi dall'esterno era interessante perché secondo questa appunto questo gusto diverso tra videogiocatori una delle teorie è che le persone che usano non usano l'asse invertito tendono a immedesimarsi direttamente con il personaggio che stanno interpretando nel videogioco che stanno guidando mentre invece quelli che sono l'asse invertito vedono questo personaggio come qualcosa di esterno da sé che controllano come se fosse un pupazzetto insomma perché quello è e secondo me nella poesia di Mario Benedetti nell'io di Mario Benedetti questa cosa è molto evidente è un modo anche per complicare il concetto di io lirico all'interno dei testi ecco così non passiamo dico due parole su questo punto sì non conoscevo questa teoria però è interessante ed è così anche ho provato a dire ora brevemente il tempo era poco si potevano dire anche molte altre cose però quello che fa una delle cose che fa quella poesia che per me appunto è straordinaria è creare appunto questa almeno duplicità del soggetto dell'io e come dicevo le due letture possibili anche per quanto riguarda il finale non sono esclusive nel senso che si possono tranquillamente sovrapporre e anzi secondo me non so quanto fosse premeditato però quello che fa quel testo là nel finale è proprio giocare con l'orizzonte d'attesa del lettore di lirica che si aspetta appunto di ascoltare soprattutto o a volte esclusivamente la voce dell'io in un testo in una poesia e invece no in quel caso lì sta ascoltando sia la voce dell'io ma sia la voce di un personaggio reale che si è che si è suicidato io non so non ho conosciuto Benedetti mi sarebbe piaciuto molto parlare di questo di questo testo del suo finale è curiosa questa cosa che diceva Guido Mazzoni sulla sua testimonianza sulla doppia versione non so per esempio una cosa che nell'altro commento che ho citato Benedetti dice che questo testo è stato scritto nel 2002 quando è stato pubblicato anche su questi aspetti a che giudizio diciamo l'articolo dice abbastanza Riccardo è sparito vabbè si si avevo non so se Francesco volevi si no no dicevo avevo finito spero che sia capito non so se la connessione si 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 ok a posto Francesco volevi dire qualcosa se è possibile sì volevo fare due considerazioni breve due domande una un pochino riprendendo sia il discorso che che faceva Claudia e sia quello che ha fatto Simone Burratti ossia cioè a Simone il discorso sui testi che non hanno una variante lessicale cioè l'ho notato l'ho notato anch'io però allo stesso tempo specie nei secoli dell'apri è appunto che ci sono dei testi che poi non rientreranno in umana gloria di cui però rimane forse qualche traccia a livello di solo immagine solo alcune parole e volevo chiedergli un pochino se lui ha notato ha notato qualcosa del genere nei suoi studi e che tra l'altro si riconnette alla cosa che diceva Claudia ecco sui poeti di lago mentre Claudia visto che quello che ne so ecco il testo che ha analizzato è l'unico della sezione un cielo che cresce un fiore che cresce più di quello che possa è l'unico inedito diciamo è l'unico che non è in una in un'altra raccolta precedentemente quindi secondo lei in che rapporto sta con gli altri testi della sezione c'è un testo che è in moriremo guardati che è fondamentalmente insieme alla prosa quella di una delle prose della sezione prose di Umana Gloria il testo più antico di tutto Umana Gloria e lo stavo ricercando perché in quel caso c'è un rimaneggiamento pressoché totale anche se se non sbaglio era presente la versione quasi definitiva già già dopo già forse nel cielo per sempre adesso non mi ricordo bene però lì era interessante perché sì nel caso che ho portato io effettivamente non ci sono varianti lessicali quel testo mi interessava proprio perché non c'erano varianti lessicali c'era solo uno studio prosodico però ovviamente cioè Maria Benedetti era un autore che puntualmente andava a ribaltare certe cose perché poi i temi sono sempre quelli e quindi magari ti trovi un verso isolato da una poesia abbandonata che poi ricompare in un'altra poesia totalmente diversa e questo non la sto trovando però intanto vabbè insomma è questo discorso qua se poi la trovo te lo dico allora dico una cosa sul Riccardo Socci sul finale sempre sul finale di che cosa è la solitudine l'ultimo verso o lo dice l'io o lo dice la donna o lo dicono in qualche modo tutte e due però se lo dice l'io non prenderei per buono l'interpretazione che Mario ne dava nel mi sembra 2014 nell'autocommento sia perché gli autocommenti a distanza in generale secondo me sono poco attendibili non sempre sono attendibili e poi perché quel tipo di autocommento mi sembra molto legato alla poetica di terza morte più che alla poetica di umana gloria cioè mi sembra di cogliervi l'eco della poetica del sosia che è molto presente in terza morte centrale in terza morte quello scusatemi tutti potrebbe essere interpretato e questa era secondo me la prima lettura plausibile come un'espressione di pudore dell'io che si scusa di aver tirato in mezzo per esprimere che cos'è la solitudine una tragedia altrui che non lo riguarda direttamente e che ha conosciuto solo attraverso il foglio di giornale questa secondo me è un'interpretazione da tenere presente che è diversa dall'interpretazione del 2014 di Mario ma era e qui sempre porto una testimonianza più o meno intorno al 2006 era un'interpretazione che Mario prendeva per buona sì sono assolutamente d'accordo come dicevo prima ci sarebbero tantissime cose da dire tanti possibili approcci al test al finale in particolare e sono assolutamente d'accordo con questo e per brevità oggi ne ho tirati in ballo due e sono anche d'accordo sulla non attendibilità degli autocommenti come dicevo prima la stessa cronologia proposta da Mario Benedetti non è attendibile quindi sono d'accordo e volevo dire a Francesco che ho trovato effettivamente il testo di cui parlavo che è questo caldo alle mani in umana gloria nella lezione quella originale della pagina 55 che è sostanzialmente un testo breve monostrofico ma se andiamo sommoriremo guardati aspettate e già l'incipit è diverso perché è inutile questo caldo alle mani e sono ben due straoffe cioè un testo anche abbastanza lungo e qui adesso non lo leggo perché è un po' tardi è tutto però è come se qui Benedetti agisce veramente di sottrazione di incisività cioè la prima versione è un testo che ha anche un impianto abbastanza descrittivo narrativo lungo mentre invece nel testo di umana gloria è molto piaciuto e va a prendere proprio quei versi modificandoli e accorciandoli che sono la chiave del testo scritto in giovinezza ok problemi se arriva arriverà quando può io sinceramente ho preso una valanga di appunti di tutte le cose molto interessanti che avete detto ma trascelgo una cosa che è forse la più stupida però quella che non verrà mai fuori in nessun saggio di nessuno che è questa siamo sempre in che cos'è la solitudine una cosa che non bisogna dimenticare mai è che Mario Benedetti aveva un'ironia terribile quando ci parlavi quando stavi con lui c'era una delle componenti più evidenti della personalità e quindi poteva essere anche molto divertente qualche volta questa forma di ironia viene fuori in un modo super nascosto nei testi e forse proprio in che cos'è la solitudine c'è qualcosa di questo tipo io mi ricordo ma proprio dalla notte dei tempi che delle volte per ridere ci citavamo dei versi di pascoli ma proprio per ridere uno di questi versi che spesso veniva spesso adesso io me lo ricordo come almeno due tre volte insomma c'è qualcosa di nuovo oggi adesso cito a memoria c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria anzi di antico e mi viene quando io leggo purtroppo non lo so se sia vero ma quando io leggo pareva un giorno lontano oggi pensoso allora io mi vedo la faccia di Mario che pronuncia quel verso come se stesse pronunciando il verso di pascoli c'è qualcosa di nuovo oggi nell'aria anzi di antico cioè questa aggiunta di questo pensoso a me mi scappa sempre da ridere in una poesia che è decisamente tragica volevo dirvi questo quindi questo ha a che fare e non è un caso che però capiti là perché appunto come si diceva c'è l'ingenuamente prima subito prima c'è il tema dell'ingenuità cioè il tema dell'idiozia no che viene in qualche modo esibita cioè quello è il verso più idiota che Mario poteva inventarsi in quel momento e lo mette lì apposta cioè questo voglio dire mi sembrerà una bestemmia però questa componente esiste e vorrei che qualcuno prima o poi la ricordasse basta mi fermo qui sperando che Claudia possa raggiungerci si sono ecco bravissima ecco scusatevi risponderò senza video perché in questo momento non posso allora ringrazio Francesco per l'osservazione per la domanda in realtà non ho una vera risposta nel senso dal mio punto di vista sì il legame c'è e un po' credo di averlo mostrato con quello che ho detto cioè in questa poesia comunque ci sono delle cose molto tipiche di tutta umana gloria e c'è un contesto tipico di quella sezione cioè il passato la giovinita il passato friulano in un ambiente naturale e la sovrapposizione di piani temporali e ho presente appunto gli altri testi precedenti genetici diciamo così perché ho studiato i libri precedenti e non ho trovato così insolito insomma la presenza di quest'unico inedito perché non umana gloria comunque è un altro libro non è soltanto l'unione dei precedenti ecco però scusatemi probabilmente non ci ho riflessuto abbastanza ecco dal mio punto di vista si integra bene con il resto della sezione ne approfitto per farti anche una domanda osservazione cioè mi sembra di aver capito dall'introduzione di Stefano che studi la la presenza nella poesia contemporanea è così giusto ho capito bene insomma se ho capito bene mi interessava sapere se hai studiato in questa chiave se ti sei occupato di della presenza di Dante in pitture nere su carta perché era una cosa che a suo tempo mi mi era interessata ecco grazie perdonami Claudia credo un frammento del tuo audio me lo sono perso quindi non ho capito la presenza di che cosa di chi in cosa di Dante di Dante in Mario Benedetti no dove era scusa in terza in pitture nere in pitture nere scusa non ho usato ecco quella era su Stefano forse ricordava il mio discorso su su Eriosto ecco non su Dante Benedetti non ho mai osato fare ma non perché credo non ci sia confusa perché non ne sarei probabilmente in grado ecco mentre per quanto riguarda ecco grazie per la risposta io immagino ci sia un legame mi riferivo proprio al fatto che sia inedito comunque grazie c'è un intervento di Arietta Vukai interessante e uno di Andrea Piasentini li leggiamo perché chi è su youtube non può leggerli quindi è il caso di leggerli vai tu Stefano allora Andrea Piasentini dice ciao grazie a tutti di cuore ascoltando l'intervento precedente di Guido Mazzoni mi si è rafforzata l'impressione che effettivamente in che cos'è la solitudine ci fossero delle cellule ritmiche ternarie tipo scusatemi tutti che è seconda quinta o la donna distesa seconda quinta si è distesa prendendo terza sesta eppure in assonanza quasi perfetta e così pure disseminate e nascoste negli altri versi questi piedi ritmici sparpagliati e fusi con il resto del discorso credo possano prendere un certo valore se uniti all'idea dell'intervento di Simone Burratti e cioè che guardando microscopicamente la forma si ritrovino indizi che ci indirizzano verso un soggetto non così ingenuo e aggiungo vigliacamente solo alla fine un'altra suggestione avuta durante la lettura e cioè che lo strofismo di Benedetti sia compatto e rivestito da una certa semantizzazione metrica i pensieri e i nuclei mentali ossessivi spesso si ritagliano spazi netti e nitidi lo strofismo non è così debole insomma mi pare ok Arieta Vucay scrive a proposito del verso scusatemi tutti c'è anche un'altra risposta autocommento che Benedetti dà in un'intervista radiofonica per il verso giusto i poeti su radio 1 puntata del 5 settembre 2012 che prova a trascrivere sono io che mi scuso perché sono io che ho letto la notizia in un foglio di giornale e poi chiedo scusa a tutti per questo fatto qui è come se mi vergognassi di riportare una notizia un po' oscena un po' e anche per quello che prima dico che dico prima io che sono solo sono seduto sulla panca di un giardino sembra un poeta crepuscolare tra virgolette un neoclepuscolare che sta lì nel freddo leggendo un libro quindi è un'immagine del primo novecento a livello poetico e quindi chiedo scusa per tutto questo che è osceno è oscena sia la notizia della donna che si ammazza così ed è osceno anche il fatto di descrivermi come un poeta neoclepuscolare sì luce che da sé è vera dice Tommaso ok poi oi c'è un fatto interessante che aggiungo se non avete troppa fame che forse mette insieme questa faccenda del futuro che faceva notare Claudia per cui spesso le poesie di Mario finiscono al futuro indicano un futuro e è un po' quello che diceva Tommaso su questo sciogliere il vuoto della mancanza su questo su questa valenza positiva propositiva del vuoto che non è solo sintattico è proprio è tutto e mi sembra che le due cose vadano d'accordo cioè è vero che la nota fondamentale di Mario Benedetti è tragica però è una tragedia che non finisce lì c'è una continuazione e questo è il suo bello decisamente insomma ecco volevo soltanto dire questo c'è qualche non so se chiamarla una salvezza però da qualche parte c'è qualcosa a cui forse ci si può aggrappare forse anche la spam la spes contra spam di Zanzotto e di Tertulliano ecco se ci sono altri interventi ringrazio moltissimo i coloro che sono intervenuti oggi perché hanno veramente interpretato molto bene il loro compito era esattamente quello che Stefano e io volevamo discorsi che partissero dal testo che fossero precisi puntuali a partire dal testo particolare sviluppassero un'interpretazione della poesia di Mario come è accaduto nei testi negli interventi medesimi ricordo due cose innanzitutto i prossimi appuntamenti del ciclo extrema razio giovedì 8 aprile con Giorgio Vasta introdotto da Emanuele Carbet e giovedì 15 aprile un tavolo rotonda intitolata come salvare Dante con Justin Steinberg Pietro Cataldi Antonio Montefusco Natascia Tonelli in questi casi torniamo al nostro orario consueto che è le 21 ricordo anche il primo intervento del ciclo extrema razio c'è stato mercoledì scorso Elisabetta Mengaldo ha parlato dell'invenzio e questo intervento era previsto nell'ambito è previsto nell'ambito del conferenze del circolo filologico linguistico padovano che ha intrapreso una collaborazione con noi loro hanno ospitato una nostra iniziativa e noi abbiamo ospitato Elisabetta Mengaldo questo proposito ricordo che il 31 marzo ci sarà l'ultimo seminario del circolo con Camilla Caporicci e vi invito a partecipare dunque vi ringrazio di nuovo ringrazio coloro che sono intervenuti ringrazio il pubblico che ha appazientato più a lungo del solito ma oggi davvero ne valeva la pena e vi vi do appuntamento all'8 aprile grazie a tutti davvero che di ringrazio